In un mese è cresciuta ulteriormente la voglia di pensionamento in Calabria. Oltre 1000 calabresi hanno sposato a quota 100 il Decreto-Legge 4-2019 che consente ai lavoratori che raggiungono entro il 31 dicembre 2021 62 anni e 38 anni di contributi di accedere alla pensione. Nel pomeriggio di venerdì scorso l'Inps ha pubblicato sul sito l'aggiornamento delle domande presentate. Dalle 3.404 richieste pervenute all'Istituto di Previdenza l'8 di marzo si è passati adesso a 4.405. In testa alla classifica continua ad esserci saldamente Cosenza e la sua provincia con 1.734 domande. A seguire Reggio Calabria dove al momento sono 1.120 i lavoratori che hanno chiesto l'anticipazione della pensione. Poi c'è Catanzaro con 926, Grotone con 322 e Vibo Valencia con 303. Sinora in tutta Italia sono stati oltre 36.000 lavoratori a richiedere l'adesione a quota 100. Una valanga di richieste che non appari nelle statistiche delle ultime riforme previdenziali in Italia. Da settimane oramai è un vero e proprio assalto ai patronati. È il modo preferito dagli italiani per presentare le richieste mentre pochissimi sono quelli che sanno districarsi da soli tra moduli e tabelle.